buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo scopriamo insieme le creazioni di resina allora ovviamente oggi ho usato tutti gli stampi nuovi che mi sono arrivati ieri e anche questo che non ho fatto vedere in nessun video è nuovo e ci sono le creazioni con gli stickers allora ieri l'avevo detto nel video ma l'avevo detto alla fine quindi praticamente nessuno l'ha sentito visto che oggi ho fatto tutte le creazioni nuove perché come sapete quando ricevo degli stampi li provo subito e però appunto le ho appena fatte queste creazioni di harry potter più avanti farò un nuovo scopriamo a tema harry potter però un po più avanti appunto perché la maggior parte di quelle che farò vedere poi le ho appena usate quindi faccio aspettare un minimo di tempo e niente possiamo cominciare subito gli stampi sono tutti di jack creation tranne questo che l'ho comprato su etsy credo scrivendo semplicemente heart mold stampa cuore e niente cominciamo allora partiamo con questa qui ho cercato di fare tutte con un po di uh è ancora un po morbido tutte con un po di sfumature eccetera per farle un po più carine e oddio carina mi piace ho fatto le sfumature oro come vedete e ho evidenziato anche il cuoricino che si vede meglio con la sfumatura d'oro sopra e non assomiglia a nessun logo in effetti perché è nero perlato con un po di sfumature oro perlate però mi piace moltissimo anche perché guardate quanto è perfetto sto stampo super lucido e non fate caso che è ancora un po molle adesso poi si asciugherà non è molle è flessibile e niente mi piace un sacco intanto si sentono rumori ambigui ma lasciate perdere e niente molto molto carina ora tirerei fuori questa qui che l'ho fatta un po alla cavolo vediamo un po e sì effettivamente potevo fare di meglio ho provato a mettere sfumature verdi solo sul teschio per fare appunto l'effetto del veleno sul teschio ma è orribile mi è venuto malissimo la prossima volta non lo farò così ma secondo me stava meglio se la facevo solo rossa perché vedete che così si vedono i dettagli opachi ed è bellissima sta cosa così invece no non mi piace proprio ma vabbè l'ho fatta male io e lo stampo era bellissimo non vale sto cercando di tirar fuori tutte quelle a parte la prima sto togliendo tutte quelle non a tema Harry Potter così le tiro fuori tutte insieme e voilà Charmander oddio guardate quanto è bello quanto è lucido quanto è perfetto e niente anche questo come vedete qui al cuoricino è bellissimo l'ho fatto molto semplicemente arancione con i glitter dietro non si vedono quasi e niente è bellissimo adoro poi a parte vabbè i cuoricini che sono con gli sticker li tiro fuori alla fine non mi sembra che ci sia altro non a tema Harry Potter tiriamo fuori Pusheen Potter o Harry Pusheen decidete voi qual è il nome più carino questo l'ho fatto non esce l'ho fatto solo bronzo non li ho fatti troppo colorati perché altrimenti non si vedono questi dettagli che sono meravigliosi cioè così si vede poco ma se guardate contro luce è una cosa meravigliosa essendo perlato poi si vede bene il perlato nella parte lucida e nella parte opaca no così si vedono ancora di più dettagli guardate quanto è bello mio dio no vabbè niente amo questi stampi da morire poi va bene tiriamo fuori il cappello parlante vediamo un po' no vabbè boh cioè sono tutti bellissimi guardate che roba questi dettagli sono fantastici e vi dico sono praticamente impossibili da colorare perché sono non sono proprio il rilievo anzi non sono proprio incisi sono sottilissimi quindi sono tipo impossibili da colorare però sono bellissimi e niente il cappello l'ho fatto tipo di un grigio molto scuro anzi volevo farlo più scuro però alla fine è venuto abbastanza chiaro rispetto a quello che volevo però vabbè è bellissimo lo stesso tiriamo fuori il patronius che ho scritto always che è anche questo come la scritta di potere abbastanza flessibile ancora e meh allora come vedete forse non si vede molto ho provato a fargli delle sfumature prima di colarlo nello stampo allora la creazione è nera però prima ci ho colato ci ho messo col pennello del pigmento bianco perché volevo che fosse che sembrasse quasi luminoso però tipo in questa gamba non c'è venuto qua è venuto un po' male in alcuni punti si vede un po' male lo volevo fare tutto uniforme però vabbè almeno l'ho scritta always si vede bene è venuta abbastanza bianca e c'è anche il coricino però sì purtroppo in alcuni punti non è venuto e ormai non si riesce più a mettere perché la resina è asciutta quindi niente però è molto bello sono bellissimi veramente non c'è uno stampo che non mi piaccia qui poi tiriamo fuori la scritta Harry Potter vediamo un po' oddio bellissima questa l'ho fatta semplicemente nera anche qui volevo che si vedessero bene le scritte e cioè anche facendo una collata di un colore semplice tipo questo è una creazione meravigliosa veramente complimenti a Gia per questi stampi perché sono meravigliosi e se non sbaglio sono proprio suoi non li ha nessun altro e niente basta sono sconvolta sono bellissime oh e sì sto aspettando a tirare fuori quelli delle casate sorvoliamo le bolle che ci sono qua dietro ma tanto sono dietro non mi importa vediamo cosa sono riuscita a combinare per quella del binario 9 3 quarti oddio allora essendo questo questo dovrebbe essere una specie di non so se è quello che c'è attaccato no c'è scritto King Cross Station quindi dovrebbe essere tipo il cartello che c'è nel binario no e io me lo sono immaginato di metallo quindi l'ho fatto argento con sfumature bronzo e oro che sono tipo i vari colori del metallo però non lo so mi sembra un po' un casino non mi fa impazzire questo mix di colori però vabbè ecco se la guardiamo a contro luce è molto più bella anche qui c'è il cuoricino non l'avevo mica visto è troppo carino no basta io non so che cosa dire con questi stampi sono sconvolta tiriamo fuori la mappa del malandrino oddio anche qui ho fatto un po' un disastro provato a fare delle sfumature un po' nere e questo colore in teoria come vedete è un oro un po' scuro da qui sembra con le sfumature sembra marrone ma vabbè non è esattamente il colore che volevo anche perché non sono riuscita a trovare un colore che sembrasse una pergamena e comunque niente ovviamente anche questo è bellissimo guardate i dettagli che ci sono intorno è una cosa incredibile e infatti mi sono venute alcune bollicine piccoline tipo qui tipo qui ma è bellissima adoro tantissimo dunque sono rimasti quasi solo gli stemmi delle casate e quello no dov'è quello generale non mi ricordo che colore l'ho fatto questo qua però tiriamo fuori questo oddio oh no qua non mi si era mescolato aspettate che cosa sono questi segni secondo me lo stampo tipo aveva qualche pezzo che si è staccato e si è attaccato alla creazione però a parte questo non avevo mescolato bene il pigmento però l'idea del colore mi piace molto perché tipo blunotte e visto che questo stemma è ripreso da quello della disney ci stava bene visto che appunto lo stemma della disney è blu e bianco vabbè e comunque a parte queste macchie che adesso vedrò se riesco a tirar via perché si sono pezzi di silicone vengono via si ecco vedete è molto 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 carino c'è il cuoricino anche qui anche qui se non sbaglio non l'avevo visto oh mio dio ma qui c'è un personaggio sulla scopa forse Harry non lo so non l'avevo visto niente è bellissimo cioè ma veramente ragazzi questi stampi sono qualcosa di incredibile lo so che lo continuo a dire ma è così bene questo dovrebbe essere quello generale di Hogwarts l'ho fatto nero forse l'avevo fatto nero perché essendo pieno di dettagli volevo farlo appunto di un colore più semplice possibile anche qui secondo me ci sono dei pezzettini che non dovrebbero esserci non lo so non saprei dirlo forse è fatto così proprio non lo so comunque vedete che le scritte e le incisioni sembrano bianche io non l'ho fatto apposta ragazzi sinceramente non l'ho proprio fatto apposta io ci ho messo solo il nero qua dentro perché lo volevo solo nero però guardate guardate che roba è una cosa incredibile dei dettagli assurdi bellissimo veramente bellissimo ok tiriamo fuori gli stemmi delle casate ho molta paura partiamo da griffon d'oro ho cercato di farli dei colori giusti ovviamente quindi questo l'ho fatto rosso con le sfumature d'oro secondo me farà schifo forse dovevo farlo d'oro con le sfumature rosse vabbè qui diciamo che con dei dettagli così non potevo fare altro che provare a metterlo un po' a caso a parte che così non si vede l'oro si vede solo contro luce un pochino però vabbè e non lo so non mi dispiace con queste chiazze d'oro così diciamo che non mi fa impazzire ma più che altro non capisco perché così non si vede vabbè carino molto carino anche qui un sacco di dettagli stampo meraviglioso e niente è molto molto carino tra l'altro ho visto che moltissimi di voi anche nel sondaggio della box che avevo messo sono griffon d'oro ma lo dite perché vi piace a Harry eccetera o perché avete fatto il test su Pottermore io invece sono tasso rosso è una cosa che ho sempre pensato fin da quando hanno parlato delle casate nel film che io ho visto quando avevo 10 anni credo e poi il test su Pottermore me l'ha confermato che effettivamente sono tasso rosso vediamo come è venuto il mio di stemma orribile ragazzi mi è venuto malissimo ma cos'è avevo messo il nero un po' di cioè tipo io nelle scritte avevo cercato di metterlo molto di più per evidenziarle e invece si vede tipo solo in alcuni punti veramente mi è venuta da schifo questa ok fantastico proverò a migliorarla ma non credo che ce la farò è molto particolare questo tipo di stampo quindi non credo che riuscirò a migliorarla però vabbè guardiamo il lato positivo se la guardo contro luce è sempre bellissima uffa anche quando avevo fatto la colata con i team di Pokemon Goal quella che era del mio team era la più brutta va bene passiamo al corbo nero l'ho fatta blu con le sfumature bianche argentate tipo vediamo allora sembra che queste siano fatte nello stesso modo nel senso che ci sono in tutti i due dettagli che sono un po' bianchi il punto è che in questa l'ho fatto apposta in questa no vabbè comunque in questa come non so se si vede se si vedono un po' le sfumature l'ho fatto apposta a farlo così questa mi è venuta molto meglio tannazione questa adesso la faccio con le sfumature bianche anche se non c'entra niente il bianco con un tasso rosso comunque questa è molto carina a parte questa bolla gigante ma va bene facciamo pinta di niente infine serpeverde serpeverde è bianco e verde anche qui ci ho fatto le sfumature bianche e insomma qui sembra che ci ho passato proprio un segno di evidenziatore insomma qui ho esagerato col bianco sulla scritta però anche questa non è male ma santo cielo davvero la più brutta è quella della mia casatura non vale ah ma qui il cuoricino è fatto così non è solo inciso è proprio tutto in rilievo che carino niente sono tutte belle tranne la mia non vale niente ragazzi gli stampi di Harry Potter sono finiti ora mancano questi allora vabbè questo era un avanzo un avanzo di cosa di questo credo sì e visto che era un bel colore l'ho messo lì tra l'altro è molto carina così così ci attacco uno sticker e ci passo sopra il lucido così diventa una vera e propria creazione con lo sticker è molto bello sembra un cielo stellato quindi penso che farò così ora non mi ricordo già più che cosa ho fatto ce l'ho fatta ieri ma va bene allora oh guardate quant'è carina no è bellissima c'è questa creazione con questi sticker della Sanax che sono alcuni ricevuti ieri questi personaggi non mi ricordo mai come si chiamano a parte che adoro questa specie di lumaca con superfagottino che ha la faccia a sua volta è bellissimo anche l'orso polare è bellissimo a poi mi piace molto che sono che ho messo questi glitter colorati pastello dietro e lo sfonto bianco perlato e ci sta da dio secondo me molto bene molto bene questa è molto carina poi qui ah questa oddio molta paura ok allora questi sticker non si vedono praticamente ci ho anche messo lo sfondo bianco per cercare di farlo vedere il più possibile ma si vede pochissimo allora non era un problema solo di quella creazione che ho fatto ad acquario perché lo sticker è fatto sempre nello stesso modo vabbè comunque è molto delicato però un pochino si vede la boccettina che qua diventa un po' azzurra e poi vabbè ci ho messo tre stelline dorate per abbinarle al resto però tipo qui ci sarebbe l'etichetta con scritto drink me ma praticamente non si vede ma questi sticker come cavolo vanno usati scusate non ho capito tanto non si vedono poi passiamo a questa che ah no scusate ma questa era rosa in teoria non si vedrà mai nella vita anche perché è tipo trasparente ok no non si vede era di un rosa molto leggero ma non si vede assolutamente vabbè facciamo finta di niente questa invece è lilla come potete vedere molto carino questo colore anche questa mi piace un sacco a parte che qui c'è una stellina che si è tipo piantata di cattiveria nella resina non so come ha fatto comunque è troppo carino c'è Gudetama versione cupcake bellissimo con lo sfondo viola e quindi ci ho fatto il resto lilla è un viola un po' sul blu e questo lilla invece è più sul rosa però è un abbinamento che sta molto bene poi vabbè ci sono le stelline rosa e lilla non so se si vede che ci sono sia rosa che lilla e niente è molto carino anche questo mi mancavano un po' le creazioni con lo sticker in effetti poi qui c'è un altro Gudetama oddio oddio no calma io non lo volevo così allora questo Gudetama è un ninja è lo sfondo viola io volevo farci uno sfondo nero che avesse giusto qualche brillantino viola ma sono andati tutti sullo fondo doveva essere più o meno così a parte che si sono agglomerati in mezzo doveva essere nero con qualche glitter e invece ce ne sono una tonnellata davanti cavolissimo e vabbè questa non mi piace pazienza e questa è l'ultima oddio ma che carino purtroppo qua si vede molto lo stacco perché mi era rimasta poca resina trasparente e non pensavo che si vedesse così tanto se non avrei aggiunta e quindi si vede molto il bordo però è molto carino guardate allora c'è sempre l'orso polare ma la copertina ha la faccia credo che sia tipo sempre la stessa la stessa stoffa che c'è qua che ha la faccia ma è troppo bello e poi niente ho messo i glitter rose bianchi quelli bianchi sembrano azzurri ma giuro che sono bianchi e lo sfondo bianco perlato sapete che io adoro le cose perlate non uso mai i colori normali non so perché ma niente la è abbastanza carina anche questa bene ragazzi queste sono tutte le creazioni di oggi e la mia preferita oggi è una parola una cosa molto difficile quelle di Harry Potter mi piacciono tipo tutte perché anche quelle con i colori più semplici hanno lo stampo che è una cosa meravigliosa e quindi sono belle per forza e poi mi piace molto dove è finita questa qui vabbè anche queste carine eccetera però vabbè questa qui è quella che mi piace di più di quelle con lo stickers niente fatemi sapere quale è la vostra preferita e noi ci vediamo domani con il prossimo video ciao ciao